bella vecchietà, i temi grazie, siamo tornati con noi più solito del Rotto di Joe 1 e come vedete la situazione non è dei migliori perchè dopo tre partite abbiamo fatto due punti e niente non è meglio per farlo che cazzo è un cazzo abbiamo fatto due punti e siamo messi male ovviamente cioè è un pareggio 4 ovviamente stiamo subendo lo scotto della neopromossa perchè noi siamo neopromossi in terza si è un po' comodo ma che si fomenta e poi è un po' una merda perchè appunto ecco perchè è una merda forse perchè oggi non so fare più video vabbè possiamo partire quindi come vedete siamo messi abbastanza maluccio oggi si cerca la prima vittoria 4 dei quarti 4 dei quarti e cioè proprio questo Sicilia FC portaci no fa ancora il mio che prima c'è centrale eh voglio fa che cazzo ne so... ah metti Luca Seramira e Serra eh si può fa' 2 de 100 ciole si può fa' no ce la metti con le metti in mezzo vabbè comunque Tampico Bernabeu ecco subito parte la partita incredibile partita incredibile partita incredibile partita incredibile partita particolarmente particolare oddio buona Aguero Sergetto SERGETTO ma che cazzo è andato invece ma che cazzo è andato invece ma non passa dietro ma non passa dietro ma non passa dietro ma non passa cibo sovrapposizione del cazzo mamma mia mamma mia che gioco di squadra mamma mia mamma mia stavo scherzando tranquillo sei il più forte della squadra mamma mia ma che bello 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 si infatti non mi aspettavo più capi amica cazzo ha preso il palo vabbè mamma angelo no 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 prima volta che il pantilo ah primo si sei un pollo quadrato buonissimo ci riprova con il tiraggio no è un cuore del mè o cioè la diria da io si ah vabbè cosa è giusto dai che culo occhio là quello ma ma esci si ma vaffanculo ma che vuol dire vabbè qui si è capito che doveva segnare dai perchè parco due tutte e quattro ci eravamo andati in quattro e vabbè in cernio finiamo qua dai non ci posso credere no 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 vabbè no 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 madonna che culo vabbè vabbè una volta dimmi dalla su finalmente c'ho un cazzo io ho quello che spero vabbè 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 Quindi visto che questa l'abbiamo persa ne facciamo un'altra perché mi sembra giusto nei vostri confronti Siccome è piaciuto tanto il video di quando abbiamo fatto due partite insieme allora stiamo prendendo in considerazione l'idea di farne due Ma vediamo un attimo il vostro riscontro diciamo Vediamo un attimo la sua squadra Seconda partita Spam Vai È la nostra Bundes È la nostra A parte l'AM Perché c'è un bel adiamo Dai regà si cerca la prima vittoria E la Bundes sappiamo che soffre molto contro la Barclays Che almeno noi soffriamo molto contro la Barclays Fallo dai E No no ma perché fai eh perché non mi per culo che ti mi per culo da solo Ho detto eh lo sapevo con stop mica eh perché volevo far pallonetto Ehi No Hai fatto il pallonetto No ho tirato ma che ne hai visto ho tirato pure di precisione sperando che la vieste col destro Dalla qua Ma perché si allunga il pallone Se ne va Ma però se ne va Io dico che torna indietro Passa la palla e mezza le gambe No 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 Che devo fa Lo spazz Mi stava attaccato Ma spazzala Perché lo devi dire dribbla Che bello ma Che bello io ma fai stop fatti male però tranquillo mannaggia oh mannaggia oh mannaggia era sicuro che faceva c'è si vedeva proprio dai tutti gli impalli poi dimmi che non hai scriptato sto gioco c'è sei mannato vai vai a chi l'ha data? l'ha fatto no ho sbagliato troppa pretta troppa pretta mannaggia a me mannaggia nooo vabbè considerando che potevano peggio una sconfitta in parigi niente se vince è stregata sta divisione è stregata veramente e niente 3 punti mancano 5 partite dobbiamo fare 3 vittorie che dobbiamo fare 5 vittorie di passato e 3 vittorie di passato è dura è dura mi sa che ritorniamo subito in quarta comunque noi ci ubiciamo al prossimo video e speriamo che vada davvero meglio bella non 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 non